Sindaco Coppola, in merito alle ultime notizie che sono veicolate anche sui social network per quanto riguarda alcune scuole del territorio agropolese e quindi alcune problematiche che sono state riscontrate dalla neoconsigliera comunale Gisella Botticchio. Ecco mi piacerebbe una sua risposta e ovviamente una risposta anche a tutti i genitori che fanno frequentare i propri figli le scuole di Agropoli. Penso che la risposta più semplice sia tanto rumore per nulla nel senso che nei giorni scorsi come tutti sappiamo c'è stato un abbassamento forte delle temperature esterne. La notte si è raggiunto spesso i zero gradi quindi di mattina la temperatura era particolarmente rigida e quindi come siamo soliti fare a seconda delle temperature esterne modifichiamo anche la durata di accensione dei termosifoni naturalmente delle scuole e degli impianti di riscaldamento in generale. E così che se fino al mese di dicembre insomma prima dell'arrivo del Natale gli impianti erano accesi dalla mattina presto fino alle 11 era sufficiente quella temperatura quel tempo di accensione degli impianti perché evidentemente poi una volta che i ragazzi erano nella scuola la temperatura si manteniva costante atteso l'abbassamento delle temperature si è deciso di allungare i tempi e quindi si è andato oltre le 11 in alcune occasioni fino a luna in un'altra occasione fino a mezzogiorno a secondo delle esigenze che ci vengono puntualmente richieste da coloro che usufruiscono insomma delle scuole quindi dagli operatori e noi a secondo delle richieste li abbiamo immediatamente accontentati. Naturalmente il pomeriggio c'era comunque quando le scuole vengono utilizzate il pomeriggio la riaccensione per altre due ore il pomeriggio insomma quindi questo è. Poi ci è stato segnalato qualche piccolo disservizio del tipo che in un bagno dei professori c'era una piccolissima perdita certamente un bagno su 50 o di più dei bagni insomma dei plessi scolastici nostri può capitare che ci sia un piccolo disservizio che poi è stato prontamente riparato insomma penso che anche nelle case di ognuno di noi se capita che c'è una piccola perdita il tempo di chiamare l'idraulico che arrivi per sistemarla. Credo che la perdita non è una cosa prevedibile così come i cambi di temperatura non sono prevedibili quindi noi reagiamo a seconda delle esigenze ecco quindi questo per dire insomma si può dire tutto ma non si può dire che non abbiamo attenzione per le nostre scuole ecco perché ritorno alla battuta iniziare tanto rumore per nulla c'è chi su piccole disfunzioni vuole alzare polveroni ma a che serve tutto questo? I cittadini e gli utenti poi daranno la risposta non la devo dare io probabilmente serve soltanto a fare confusione serve soltanto a innalzare la battaglia politica ma è questo il modo di fare politica andare a fare la fotografia di un bagno su 50 che c'è una piccola perdita? Non lo so io non sono io che devo decidere ma saranno come sempre i cittadini e gli utenti a dire se stiamo facendo un buon lavoro oppure no. Pochi giorni fa anche un blackout presso la scuola Gino Landolfi che anche lì insomma ha visto un po' di polemiche in giro sui social ecco anche qui mi piacerebbe sentire da lei delle rassicurazioni proprio per i genitori che ascolteranno l'intervista. Ma certo è capitato insomma che c'è stato un problema della corrente in entrata quindi non si parla di una disfunzione dell'impianto della scuola ma si tratta di un problema legato all'Enel e al contatore in entrata dell'Enel che ha avuto un problema ed è stato sostituito. Anche lì appena il problema si è verificato l'intervento è stato immediato c'è stato un piccolo disservizio nell'immediatezza perché poi il contatore che ha avuto problemi e la cosa si è manifestata la mattina presto insomma quindi abbiamo immediatamente convocato sia la ditta che per nostro conto svolge la potenzione che la stessa edile che io penso in tempi veramente brevissimi si è regata sul posto e nel giro di poche ore insomma è stato risolto il problema il giorno dopo è stato implementato l'impianto oggi il problema non c'è più ma anche lì si è determinato un guasto che può succedere e che non è prevedibile e quindi io penso andrebbe valutata rispetto a un guasto non prevedibile io credo per dare un giudizio sull'operato positivo negativo di chi controlla sui tempi di reazione quindi dato che io ritengo che i tempi sono stati brevissimi ma non è che sono passati giorni per riparare ma nell'immediatezza si è intervenuto penso che possiamo dire che è stato fatto un buon lavoro ripeto ancora se c'è un guasto e può succedere non solo negli nostri impianti che vengono comunque controllati sempre però il guasto non è prevedibile può capitare per quanto che tu fai delle verifiche giornaliere settimanali può capitare come succede ripeto nelle case di ognuno insomma quello che dobbiamo applicare il tempo di reazione che è stato brevissimo e quindi penso che non meritiamo queste critiche